Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla E siamo tornati su Final Fantasy XVI Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati La scorsa volta o meglio abbiamo sconfitto questo mid boss E abbiamo qui questi mercanti, questi banditi Sicuri di non volerci ripensare? Potremmo discuterne fuori, al sicuro No, manderemo avanti noi Eh sì, con questa poca vita che abbiamo Pensare che l'hanno costruito i decaduti Quante conoscenze avevano Conoscenze ora perdute Sì, come la nostra vita è perduta Perché non abbiamo pozioni, non abbiamo cure Allora, di là non possiamo andare Oh sì, aspetta Cosa abbiamo qui a sinistra? Eh ma facciamo semplicemente il giro Perché anche a destra potevamo andare Vediamo eh, se basta Voglio vedere se c'è qualcosa anche di qua Perché Se facciamo solo il giro Sì, facciamo solo il giro, ok Però Me ne sono voluto accertare Andiamo sul montacarichi Forza si sale Ok Allora, vediamo se c'è qualche cassa Non mi pare Ok, andiamo avanti Questa però è attiva E lì non c'è niente Questa è disattivata Questa porta Quindi Lì possiamo per forza andare qua Avete idea di cosa siano? Sembra che siano una sorta di contenitori Oh, forse Delle gabbie Come una specie di serraglio perverso Ma perché qui? Oh, guarda Una cassa Mi sa che poi con quei codici Dobbiamo combattere Dammi una pozione O anche di più Cintura dei decaduti Pozione Che caspita mi ha dato Cos'è la cintura? Aspetta Allora 180 E 80 Io c'ho l'imbottito L'esecutore dei decaduti Cioè Più forte l'arma di ultima Cacchia Rola Cioè l'arma di ultima È la più forte che ho Proprio Ecco cos'ho? Ah Ok Allora Abbiamo una pozione È una pozione potente Buono Da zero che ne avevamo Almeno ne abbiamo una Ma quanti ce ne sono Qui dentro Rilevata contaminazione Rilascio degli esemplari Da Alpha A Euro Epsilon Altri nemici Ti avvicinano Rilascio degli esemplari 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 Quanti ce ne sono ancora? Ok, aumento di livello al 90 Perfetto Buono così Allora, lì c'è un oggetto Di qua non c'è niente Ok, andiamo Mi sta piacendo sto DLC Lì c'è una roba Qua c'è un altro Basta, qua non c'è niente, vero? Ok, di qua Vediamo cosa fa Registro di sviluppo 680925 Test del reattore litogeno riuscito 23 unità di cristalli di grado 3C prodotte In futuro Tutti i semi prodotti a partire da materia inorganica Saranno sostituiti con esemplari organici artificiali Campioni organici Trasformavano esseri viventi in cristalli Ah, hai capito Eh, c'è pure la chimera qua O Ah Oh Oh, oh! Vai così Facciamo fuori la chimera Ok Quindi Allora noi siamo arrivati da là Dobbiamo andare di qua Mamma mia che fatico la chimera Uh Luce Ci sono dei goblin Credo che alcune delle creature in queste gambe Si vedessero a palestero da oltre mille anni E speriamo anche per altri Ah 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 Così È arrivato A loro Che cacchio è che spara a suo occupo Non piusce più niente È arrivato Che cacchio è arrivato Quando sono in tanti è un casino Perché non piusce più niente Non piusce più niente Cacca boia Che bordello Allora di là Molto troppo ozione Eh però cacchio Questa torre è immensa Eh vabbè Ovviamente ne avevano creati altre Sembra che questa variante possa addirittura volare Questa torre è immensa Questa torre è immensa C'è pure al 98 Qui qua Questa torre è immensa no dai dai ooo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai. Cazzo mi ha preso... Merda. Battuto. First try. Madonna però che tosto. E con questo siamo a due. Sì, ma due di quanti? Dipende da quanto erano determinati a nascondere le loro attività. Ok, ma da che parte dobbiamo andare adesso? Acqua. Mamma mia, due pozioni ho dovuto usare su quattro. Allora, lì non c'è niente, lì non c'è niente, andiamo. E' troppo facile. Se la torre ha il controllo, perché non disattiva il montacarichi? Cosa vorresti dire, Joshua? Che ci sta guidando. Trappola in arrivo? Accidenti, c'è un'intera flotta. Chissà se qualcuna è ancora in grado di volare. Mead pagherebbe per vederle. Oh, ma c'è una sorta di aeronave? Allora, di lì non si va, mi so. Lì abbiamo un oggetto. Sì, Mead qui mi sarebbe estremamente felice. Allora, di lì non si va, quindi si va di qua. Mostri, fantastico. Non sono fortissimi, ciò come... Un draghetto anche. Infatti non danno tantissimo, ma la pena 9 ghoul. Bracciali dei decaduti più 3. 180, mi danno più 80. Perché quelli di un robo... Eh, sì. Buono. Allora, lì c'è un oggetto e qui c'è quello. Mi piaceva uno grosso là. Dove dobbiamo affrontare quello lì. Rilevata attività anomala all'interno dell'hangar. Arrivazioni in Italia, Regis. Ci osservano. Mostriamogli che sappiamo fare. No, ma c'è un donno. Il laser di questo... E la spada di quell'altro. Oh, mi ha curato? Weeey. Mi sembra già un metà vita che abbiamo colto. Non è fortissimo lui. Aia. Avevo appena detto che non era fortissimo. Perfetto. Mi devono usare le pozioni. Ok. Allora, lì abbiamo la cassa. Io sto cercando di risparmiare pozioni, però... Trasferimento del prototipo guardia AM2 al Silostasi Ovest. Speriamo solo che quei suoi cristalli siano inutili come tutti gli altri. Che brutto. Sono un boss bello potente perché... Sono un boss bello potente perché... Che brutto. Che brutto. Che brutto. Che brutto. Non ti vedo Vado tutta l'area preso Questa è lunga però Perché c'ha una vita che è lunghissima Cazzarola non l'ho vista Cazzarola non l'ho vista Che palle dove è andato Vai così Che palle Quando si teletrasporta all'ultimo Io lo odio Troppo lento Merda Troppo lento Sei provata Pure tutto insieme Manda Ok Ma è lì per raggio degli occhi Uh questo mi segue E vabbè poi Questa è lì Questa è lì Questa è lì Grazie a tutti. 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 Vai così, che gli manca poco proprio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Merda, mi errà giù quello. Le palle... Battuto. Lunga, eh? L'amico è qualcosa di buono. E' il materiale. Collegamento neurale interrotto. Ricognizione. Grazie a tutti. Doveva essere... Molto bene ragazzi. Molto bene ragazzi, direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e... Alla prossima. Ciao belli. Ciao.